Di Victor Hugo, I Miserabili. Voce di Lorenzo Pieri. Parte quarta. L'idiglio di Rue Plumet e l'epopea di Rue Saint-Denis. Libro quindicesimo. Rue dell'homme armé. Capitoli secondo, terzo e quarto. Capitolo secondo. Il monello nemico dei Lampioni. Quanto tempo trascorse in quel modo? Quali furono i flussi e i riflussi di quella tragica meditazione? Si risollevò? Rimase piegato? Era stato curvato fino al punto di spezzarsi? Poteva ancora raddrizzarsi e riprendere piede nella sua coscienza su qualcosa di solido? Probabilmente non avrebbe potuto dirlo neppure egli stesso. La strada era deserta. Pochi borghesi inquieti che rincasavano rapidamente a malapena allo scorsero. In tempo di pericolo ognuno per sé. Il Lampionaio di notte venne come al solito ad accendere il Lampione che si trovava esattamente di fronte alla porta del numero 7 e se ne andò. Jean Valjean, chi l'avesse esaminato in quell'ombra, non sarebbe parso vivo. Era lì, seduto sul paracarro della porta, immobile come uno spettro di ghiaccio. La disperazione è agghiacciante. Si udiva la campana a stormo e vaghi rumori di tempesta. In mezzo al martellare convulso della campana, mescolato al fragore della sommossa, l'orologio di Saint Paul suonò le undici, grave, senza affrettarsi, poiché la campana è l'uomo, l'ora è Dio. Il passaggio dell'ora non fece alcun effetto a Jean Valjean che non si mosse. Eppure, all'incirca in quell'istante, una brusca detonazione scoppiò dalla parte delle Halle, a cui fece seguito una seconda, ancora più violenta. Si trattava probabilmente di quell'attacco alla barricata di Rue de la Chamferie che abbiamo visto respingere da Marius. A quella doppia scarica, la cui furia pareva cresciuta dallo stupore della notte, Jean Valjean trasali. Si raddrizzò volgendosi dalla parte da cui proveniva il fragore, poi ricadde sul paracarro, incrociò le braccia e il capo tornò lentamente a posarsi sul petto. Riprese il suo tenebroso dialogo con se stesso. Alzò improvvisamente lo sguardo, qualcuno camminava nella via, udiva passi accanto a sé, osservò, e alla luce del lampione dalla parte di strada che porta agli archivi, scorse un volto livido, ma giovane e radioso. Gavroche era arrivato a Rue de l'Homme Armée. Gavroche guardava in aria, pareva stesse cercando. Vedeva perfettamente Jean Valjean, ma non gli badava. Gavroche, dopo aver guardato in aria, guardò in terra. Si alzava in punta di piedi e tastava porte e finestre del pian terreno. Erano chiuse, sprangate e catenacciate. Dopo aver constatato che le cinque o sei finestre delle case erano barricate in quel modo, il monello alzò le spalle ed entrò in argomento con se stesso in questi termini. Per Diana. Poi si rimise a guardare in aria. Jean Valjean, che un istante prima, nello stato d'animo in cui si trovava, non avrebbe parlato e neppure risposto a nessuno. Gavroche si sentì irresistibilmente spinto a rivolgere la parola a quel fanciullo. «Piccolo», disse, «che hai?» «Oh, che ho fame!» rispose distintamente Gavroche e aggiunse, «piccolo sarete voi!» Jean Valjean si frugò nel taschino e ne estrasse una moneta da cinque franchi. Ma Gavroche, che apparteneva alla specie delle cutrettole e che passava velocemente da un gesto all'altro, aveva appena raccolto una pietra. Aveva visto il lampione. «To», disse, «avete ancora le luci qui. Non siete in regola, amici miei. Questo è disordine. Rompetele!» E scagliò la pietra contro il lampione, il cui vetro cadde con tale fragore che i borghesi, rannicchiati sotto le cortine del letto della casa di fronte, gridarono «Ecco il novantatré!» Il lampione oscillò violentemente e si spense. La via si fece improvvisamente buia. «Bene, mia vecchia strada», fece Gavroche, «mettiti il berretto da notte». E girandosi verso Jean Valjean, «come lo chiamate quel monumento gigantesco che avete in fondo alla strada? Sono gli archivi, vero? Bisognerebbe tirarne giù un po' di quelle grosse bestie di colonne e farne una bella barricata». Jean Valjean si avvicinò a Gavroche. «Povera creatura», disse a mezza voce, parlando a se stesso, a fame, e gli mise la moneta da cento soldi in mano. Gavroche alzò il naso, meravigliato dalle dimensioni di quel soldone. Lo osservò nell'oscurità e il candore del soldone l'abbagliò. Conosceva le monete da cinque franchi, per sentito dire. Gli piaceva la loro reputazione. Fu incantato dal vederne una da vicino. Disse, «contempliamo la tigre». La osservò qualche istante in estasi, poi, girandosi verso Jean Valjean, gli tese la moneta e gli disse, maestosamente, «Borghese, preferisco spaccare lampioni. Riprendetevi la vostra bestia feroce. Non mi corrompete affatto. Ha cinque artigli, ma non mi graffia». «Hai una madre?» chiese Jean Valjean. Gavroche rispose, «Più di voi, forse». «Ebbene», riprese Jean Valjean, «tieni questo denaro per tua madre». Gavroche si sentì commuovere. D'altra parte, aveva appena notato che l'uomo che gli parlava non portava cappello, cosa che gli ispirava fiducia. «Davvero?» disse, «non è per impedirmi di spaccare i lampioni? Rompi pure tutto quello che ti pare». «Siete un buon uomo», disse Gavroche, e mise la moneta da cinque franchi in una delle sue tasche. La sua fiducia aumentava, aggiunse, «Siete della via?» «Sì, perché? Potreste indicarmi il numero sette?» «A che ti serve il numero sette?» Il fanciullo a quel punto si fermò, temendo di avere detto troppo. Si ficcò energicamente le unghie tra i capelli e si limitò a rispondere, «Ah, ecco!» Un'idea attraversò la mente a Jean Valjean. L'angoscia ha di queste lucidità. Disse al fanciullo, «Sei tu che porti la lettera che sto aspettando?» «Voi», disse Gavroche, «voi non siete una donna?» «La lettera è per la signorina Cosette, n'è vero?» «Cosette», borbottò Gavroche, «sì, credo che sia questo nome ridicolo». «Ebbene», riprese Jean Valjean, «sono io che devo consegnare la lettera, da qua. In tal caso dovete sapere che sono inviato dalla barricata». «Senza dubbio», disse Jean Valjean. Gavroche sprofondò la mano in un'altra delle sue tasche e ne estrasse un foglio di carta piegato in quattro. Poi fece il saluto militare. «Rispetto al dispaccio», disse, «viene dal governo provvisorio». «Dammi», disse Jean Valjean. Gavroche teneva il foglio di carta alzato sopra la testa. «Non immaginatevi che sia un biglietto tenero. È per una donna, ma è per il popolo. Noi altri ci battiamo, ma rispettiamo il sesso. Noi non siamo come nel gran mondo dove ci sono leoni che inviano bigliettini galanti alle cerbiatte. «Dammi qua». «E poi», continuò Gavroche, «sembrate un brav'uomo. Dammi subito». «Tò», e consegnò il foglio a Jean Valjean. «E sbrigatevi, signor Coso, perché la signorina Cosette aspetta». Gavroche fu soddisfatto d'avere prodotto quella frase. Jean Valjean riprese, «Bisognerà portare la risposta a Saint-Marie?» «Lì voi fareste», esclamò Gavroche, «uno di quei pasticcini volgarmente chiamati brioche. Questa lettera proviene dalla barricata di Rue de la Chamvrerie e io vi ritorno. Buonasera, cittadino». Detto questo, Gavroche se ne andò, o per meglio dire, riprese verso il luogo da dove proveniva, il suo volo di uccello in fuga. Si immerse di nuovo nell'oscurità, come se vi facesse un buco, con la rigida rapidità di un proiettile. La ruelle de l'homme armé ridevenne silenziosa e solitaria. In un batter d'occhio, quello strano fanciullo, che aveva in sé dell'ombra e del sogno, era sprofondato nelle brume di quella schiera di case nere. Vi si era perduto come fumo nelle tenebre e lo si sarebbe potuto credere dissipato e svanito se qualche istante dopo la sua scomparsa un frastuono di vetri rotti e lo splendido patatrac di un lampione che crollava sul selciato, non avessero nuovamente svegliato i borghesi indignati. Era Gavroche che passava dalla Rue Chomme. Capitolo III Mentre Cosette e Toussaint dormono Jean Valjean rincasò con la lettera di Cosette. Salì le scale a tentoni, soddisfatto delle tenebre come un gufo che tiene la preda. Aprì e richiuse lentamente la porta. Ascoltò se non si udisse alcun rumore e constatato che ad ogni apparenza Cosette e Toussaint stavano dormendo, immerse nella bottiglia dell'accerino fiumèd tre o quattro fiammiferi prima di poter far scoccare la scintilla tanto la mano gli tremava. Era un furto quello che aveva appena compiuto. Infine, accesa la candela, appoggiò i gomiti al tavolo, spiegò il foglio di carta e lesse. Quando si è preda di emozioni violente non si legge, si abbatte per così dire il foglio che si tiene in mano, lo si stringe come una vittima, lo si gualcisce, vi si conficcano le unghie della propria collera o della propria allegria. Si corre alla fine, si salta all'inizio. L'attenzione è febbrile, capisce grosso modo, pressa poco, l'essenziale. Ne afferra un punto e il resto sparisce. Nel biglietto di Marius a Cosette Jean Valjean vide soltanto queste parole. Muoio. Quando leggerai questa lettera, la mia anima sarà accanto a te. Di fronte a quelle due righe provò una sensazione di terribile abbaglio. Rimase un momento come schiacciato dal cambiamento di emozioni che si era prodotto in lui. Guardava il biglietto di Marius con una sorta di ebro stupore. Aveva sotto gli occhi quella cosa splendida, la morte dell'essere odiato. Lanciò uno spaventoso grido di intima gioia. Così era finita. La conclusione arrivava più rapidamente di quanto non avesse osato sperare. L'essere che ingombrava il suo destino spariva. Se ne andava spontaneamente, liberamente, di buona volontà, senza che lui, Jean Valjean, avesse fatto nulla per questo, senza che vi fosse una sua colpa. Quell'uomo stava per morire. Forse era già morto. A quel punto la sua febbre fece dei calcoli. No, non è ancora morto. La lettera era stata visibilmente scritta per essere letta da Cosette l'indomani mattina. Dopo le due scariche che si erano udite tra le undici e mezzanotte, non c'è stato più nulla. La barricata sarà attaccata seriamente solo all'alba, ma è lo stesso dal momento in cui quell'uomo è invischiato in quella guerra, è perduto, è preso nell'ingranaggio. Jean Valjean si sentiva liberato. Stava quindi per ritrovarsi solo con Cosette. La concorrenza era cessata. Ricominciava l'avvenire. Avrebbe dovuto soltanto tenersi il biglietto in tasca. Cosette non avrebbe mai saputo cosa ne fosse stato di quell'uomo. Bisogna soltanto lasciare che le cose si compiano. Quell'uomo non può sfuggire. Se non è ancora morto, sta sicuramente per morire. Che felicità! Detto sì, tutto ciò divenne cupo. Poi scese e svegliò il portiere. Circa un'ora dopo, Jean Valjean uscì in completa tenuta da guardia nazionale, armato. Il portiere gli aveva trovato facilmente di che completare il suo equipaggiamento. Aveva un fucile carico e una giberna piena di cartucce. Si diresse dalla parte delle hall. Capitolo IV Eccessi di zelo di Gavroche Intanto, era appena capitata un'avventura a Gavroche. Gavroche, dopo avere coscienziosamente lapidato il lampione di Rue du Chambre, approdò in Rue de Vieux-Odrette e non trovandovi neanche un cane, trovò che l'occasione fosse buona per intonare una canzone più forte che potè. Il suo passo, lungi dal rallentare per il canto, ne risultava accelerato. Si mise a seminare lungo le case addormentate o atterrite queste strofe incendiarie. L'uccello sparlò sulla pergola e pretende che ieri Atala con un russo se ne andò. Dove vanno le belle ragazze? L'on-la. Amico mio, passerotto, tu balbetti. Perché l'altro giorno Milà bussò sul suo vetro e mi chiamò. Dove vanno le belle ragazze? L'on-la. Le donnacce sono gentili assai, il loro veleno che mi ammaliò inebrierebbe il signor Orfila. Dove vanno le belle ragazze? L'on-la. Amo l'amore e i suoi battibecchi. Amo Agnese, amo Pamela. Lise, accendendomi, si bruciò. Dove vanno le belle ragazze? L'on-la. Un dì, quando vidi le mantiglie di Suzette e di Zelman, la mia anima alle loro pieghe si mescolò. Dove vanno le belle ragazze? L'on-la. Amore, quando nell'ombra ove tu brilli, adorni di rose l'ola. Perciò mi dannerei. Dove vanno le belle ragazze? L'on-la. Jeanne, allo specchio ti vesti. Il mio cuore si involò un bel dì. E credo l'abbia Jeanne. Dove vanno le belle ragazze? L'on-la. La sera, uscendo dalle quadriglie, agli astri mostro stella e dico miratela. Dove vanno le belle ragazze? L'on-la. Gavosche, mentre cantava, si prodigava in gesti. Il gesto è il punto d'appoggio del ritornello. Il suo volto, inesauribile repertorio di maschere, faceva smorfie più convulse e più fantastiche dei buchi di un lenzuolo lacerato in un gran vento. Sfortunatamente, dato che era solo ed era notte, la cosa non era né vista né visibile. esistono simili ricchezze perdute. All'improvviso si fermò di colpo. Interrompiamo la romanza, disse. La sua pupilla felina aveva appena distinto nella rientranza di un portone quello che in pittura si chiama un insieme, cioè un essere e una cosa. La cosa era un carrettino a mano, l'essere era un alverniate che vi dormiva dentro. Le stanghe della carretta poggiavano sul selciato, e la testa dell'alverniate poggiava sulla tavola di questa. Il corpo era raggomitolato su quel piano inclinato e i piedi toccavano terra. Gavosche, con la sua esperienza delle cose di questo mondo, riconobbe un ubriacone. Si trattava, probabilmente, di qualche facchino dei dintorni che aveva bevuto troppo e che dormiva troppo. Ecco, pensò Gavosche, a che servono le notti d'estate. L'alverniate dorme nella carretta. Prendiamo la carretta per la Repubblica e lasciamo l'alverniate alla monarchia. La sua mente era stata illuminata da questo lampo. Questa carretta starà benissimo sulla nostra barricata. L'alverniate russava. Gavosche tirò delicatamente la carretta da dietro e l'alverniate da davanti, cioè per i piedi, e in capo a un minuto l'alverniate, imperturbabile, riposava steso sul selciato. La carretta era libera. Gavosche avvezzò a far fronte da ogni parte all'imprevisto. Si portava sempre dietro di tutto. Si frugò in una delle tasche e ne tirò fuori un pezzo di carta e una punta di matita rossa sgraffignata ad un falegname. Scrisse Repubblica Francese ricevuto la tua carretta firmato Gavosche. Fatto questo mise il foglio di carta nel panciotto di velluto dell'alverniate che ronfava sempre. Afferrò la stanga con le due mani e partì in direzione delle alle spingendo la carretta davanti a sé al gran galoppo con un glorioso schiamazzo trionfale. Era una cosa pericolosa. C'era un posto di blocco alla stamperia reale. Gavosche non vi pensò. Quel posto di blocco era occupato dalle guardie nazionali del circondario. Un certo stato d'allarme cominciava a turbare il drappello e le teste si sollevavano dai letti da campo. Due lampioni rotti uno dopo l'altro, quella canzone cantata squarciagola era troppo per quelle vie così sonnecchianti che hanno voglia di dormire al tramonto e che mettono così di buon'ora lo spegnitoio sulla candela. Da un'ora il monello faceva in quel quartiere tranquillo il baccano di un moscerino in una bottiglia. Il sergente di circondario ascoltava e attendeva. Era un uomo prudente. Il rotolare forsennato della carretta colmò ogni possibile misura di attesa e indusse il sergente a tentare una ricognizione. «Lì c'è un'intera banda» disse «Andiamo ad agio». Era chiaro che l'idra dell'anarchia era uscita dalla sua tana e si dimenava nel quartiere. Il sergente si avventurò fuori del posto a passi felpati. Improvvisamente Gavroche che stava spingendo la carretta nel momento in cui sbucava da Gruvier o Driet si trovò faccia a faccia con una uniforme un berretto di pelo un pennacchio e un fucile. Per la seconda volta si fermò di botto. «Tò» disse «è lui buongiorno ordine pubblico». Gli stupori di Gavroche erano brevi e si sgelavano alla svelta. «Dove vai canaglia?» gridò il sergente. «Cittadino» disse Gavroche «non vi ho ancora chiamato borghese perché mi insultate?» «Dove vai birbante?» «Signore» riprese Gavroche «forse ieri voi eravate un uomo di spirito ma siete stato destituito stamattina». «Ti chiedo dove vai furfante?» Gavroche rispose «parlate gentilmente davvero non vi si darebbe l'età che avete dovreste vendere tutti i vostri capelli a cento franchi il pezzo farebbe cinquecento franchi». «Dove vai? Dove vai? Dove vai delinquente?» Gavroche ripartì «ancora parolacce la prima volta che vi daranno da poppare dovranno asciugarvi meglio la bocca». Il sergente puntò la baionetta «Mi dirai una buona volta dove vai miserabile?» «Generale» disse Gavroche «vado a cercare il dottore per mia moglie che sta partorendo». «Allarmi» gridò il sergente salvarsi con quel che vi ha perduto è il capolavoro degli uomini forti». Gavroche valutò tutta la situazione con un colpo d'occhio la carretta l'aveva perduto stava alla carretta proteggerlo nel momento in cui il sergente era sul punto di scagliarsi su Gavroche la carretta divenuta proiettile e scagliata a tutta forza rotolava furiosamente su di lui e il sergente raggiunto in pieno ventre cadeva all'indietro nel rigagnolo mentre il fucile sparava in aria al grido del sergente gli uomini del posto erano usciti alla rinfusa il colpo di fucile determinò una scarica generale a casaccio dopo la quale vennero ricaricate le armi e ricominciarono quella moschetteria a mosca cieca durò un buon quarto d'ora e uccise qualche vetro di finestra intanto gavroche che a perdifiato era tornato sui propri passi si fermò a cinque o sei strade da lì e sedette ansante sul paracarro che fa angolo agli enfant rouge tendeva all'orecchio dopo aver preso fiato per qualche istante si girò verso il punto dove la fucileria infuriava alzò la mano sinistra all'altezza del naso e la lanciò tre volte in avanti battendosi dietro la nuca con la destra gesto sovrano nel quale la monelleria parigina ha condensato l'ironia francese e che è evidentemente efficace dal momento che dura già da un mezzo secolo quell'allegria fu turbata da un'amara riflessione si disse io scoppio mi sbellico abbondo di allegria ma perdo la strada devo fare una deviazione perché io arrivi in tempo alla barricata detto questo riprese la sua corsa ah già dov'ero rimasto disse si rimise a cantare sprofondandosi rapidamente nelle strade mentre il canto si smorzava nelle tenebre l'uscita in armi della postazione non fu senza risultati la carretta fu conquistata e l'ubriacone fatto prigioniero l'una venne messa in deposito e l'altro in seguito venne perseguito davanti al consiglio di guerra come complice il pubblico ministero del tempo diede prova in quella circostanza del suo infaticabile zelo nella difesa della società l'avventura di Gavroche rimasta nella tradizione del quartiere du Temple è uno dei ricordi più terribili dei vecchi borghesi del Marais ed è intitolata nelle loro memorie assalto notturno alla postazione della stamperia reale di Gavroche di Gavroche